Pronti ad immergervi in un mondo di enigmi e misteri che ti terranno col fiato sospeso? Ciao e benvenuti nel nostro canale. Oggi vi porto nel cuore di una vicenda avvincente che ha sconvolto il mondo intero. Prima di iniziare, non dimenticate di premere quel tasto magico dell'iscrizione e lasciare un generoso pollice in su per supportare il canale. Ora, avvolgetevi nella trama intricata del mistero di Cataleia. In un intreccio di oscuri intrighi e colpi di scena mozzafiato, il mondo è ancora sconvolto dalla sparizione di Cataleia, una giovane innocente al centro di un'enigmatica vicenda. Mentre la pista della vendetta e del ricatto si insinua nelle ombre, tu hai l'opportunità di essere parte attiva nella risoluzione di questo enigma. Ma c'è di più dietro questa storia? Immergiamoci nei dettagli. Tra i protagonisti di questa trama intricata spiccano i familiari, coinvolti in un passato di violenze e soprusi all'ex hotel Astor. Tuttavia, questa non è l'unica pista che gli investigatori stanno seguendo. Una chiamata telefonica tra il nonno e il padre di Cataleia ha aperto una nuova prospettiva, svelando indizi preziosi. Le autorità italiane e peruviane sono unite in uno sforzo sinergico per dipanare questo mistero. Nel cuore di questa vicenda emerge una telefonata dal carcere, che offre un'insolita spiegazione. L'hanno rapita per errore. Il nonno della bambina si svela come il nodo centrale, rivelando dettagli che potrebbero portarci alla verità. Mentre le settimane si trasformano in mesi, il destino di Cataleia rimane incerto. L'ipotesi che la bambina possa trovarsi in Peru è più che un'idea, è una speranza. Noi siamo qui per seguire ogni pista, scandagliare ogni angolo buio e offrirti un'esperienza coinvolgente che ti terrà incollato allo schermo. E ora, appassionati cercatori di verità, l'invito è lanciato. Iscriviti al nostro canale per non perderti neanche un dettaglio, un indizio, una svolta. Siamo determinati a scoprire cosa è successo a Cataleia e perché. Ricorda, premi quel tasto dell'iscrizione e non dimenticare di lasciare un like per dimostrare il tuo sostegno. Con te al nostro fianco, decifreremo il mistero di Cataleia. Un passo alla volta.